Salve amici del Centrometro Italiano, rapida perturbazione in transito sull'Italia con maltempo e aria più fresca. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 8 agosto. Al mattino locali piogge sono attese su Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, asciutto altrove ma con molte nubi. Acquazzoni e temporali anche al pomeriggio, special nord-est, tempo più stabile sugli altri settori con ampi spazi di sereno, specie sulle regioni meridionali. Fenomeno in progressivo esaurimento in serata con le ultime precipitazioni sul Triveneto. Tempo asciutto da nord a sud, nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi. Dando uno sguardo alle temperature, le minime sono attese in generale aumento, massime invece lieve calo, specie al centro. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito oppure sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centrometeo italiano.